Ciao ragazzi siamo tornati con le missioni di Fortnite, danneggia gli avversari con la nitro, praticamente ci sono degli NPC, comunque si trovano le nitro bombe, ora vi faccio vedere da questo NPC qua come sono fatte, e ora io non ho lingotti perché li ho usati tutti per vedere come si faceva la missione, eccole qua, nitro bomba, si trovano anche in giro raga, comunque se no venite qua, ve le sciuppate qua, ma si trovano davvero ovunque ve la fate, come fosse uno scudino o una splash, non dovete lanciarla, e questa nitro bomba vi da tipo una carica tipo il medaglione di Zeus, per fare gli scatti si aggiunge una barra sopra quella dello scudo rossa, fiammeggiante, che dopo un po' ovviamente si va ad esaurire, comunque quando avete questa barra attiva, quando vi siete fatti questa nitro bomba, danneggiate gli avversari. e vi conta la missione, bisogna fare 200, quindi si elimina un avversario o quasi, e la missione è completata, like oz, mi raccomando, per supportare il canale, codice creativo sempre attivo, ciao!